3, 2, 1 e... Grazie! Ciao a tutti, siamo di nuovo qui con un nuovo video e sarà un nuovo challenge. Ciao Wolfino! Ciao a tutti, ciao a tutti! Sì, mi piace essere qua in questo canale. Grazie mille di avermi invitato. E oggi il challenge riguarderà... Anzi, sono tre challenge, diciamo. E riguarderanno solo... Marshmallow! Tutti i challenge con i marshmallow. Marshmallow! E quindi iniziamo di già. Ok? Il primo sarà su Chubby Bunny. Esatto. Chubby Bunny Challenge. Allora... E lì, il cosa consiste nel mettere il maggior numero possibile di marshmallow in bocca. Ad ogni marshmallow aggiuntivo di dire Chubby Bunny. Chubby Bunny! E quando uno riesce più a dirlo, ha perso. Ok. Chubby Bunny, mangiare uno. Ah, abbiamo già iniziato. Chubby Bunny. Ah, dove mangiamo ne uno? Oh, buone! Un, due, tre, due, uno. Non lo mangio, eh. Eh? Non lo mangiarlo. Non lo mangio. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Perderà questa, la perde. Oh, buone! Oh, buone! Oh, buone! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Oh, buone! Buon appetito! un po' più un po' più Zero per me Ok, quindi uno a zero perché lui ha appena perso, io vinco, io sono la donna e sono bella e sono brava Non voglio essere maschilista, ma sarò maschilista Il secondo challenge consiste nel buttare, gettare il marcinello dentro la bocca dell'altro e vedere quanti quanti entri no? Sì Minchia, poi c'entro no Noi ci sono quasi Ma porca Mi sento... Ma ando a parlare Nooo, nemmeno uno Sì ma la mia bocca è stra larga riesce ad entrare anche se sei stra lontano Più facile prima E gioca a basket? No non è vero Poi i miei amici giocano a basket Nooo Boom Centro Puoi mangiarti Troppo vicino Come? Quanto sono? Non ti va sai Alpi, pin su Ok Oh, mi ha stoppato, ha stoppato il tiro Non va bene Oh Lo fa Quanto sono bravo in sto gioco Aspetta 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 Esatto L'ultimo challenge è uguale Tranne che stavolta In modalità più hard Quindi se lei prima già non era capace Bene 3 2 1 Vai Sorry 2 2 2 3 3 Ma che cazzo vuoi? Prova a farlo tu Vieni Tieni Ecco Sfigato Non so neanche dove sono i marshmallow Aspetta Apri Ahah 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 E questo conclude i nostri challenge Ho fatto schifo Ahah Ahah Sì non lo sente questo però Anche tu hai fatto schifo Esatto Eh Finisco con un pareggio quindi 1 a 1 Vogliamo tenere tutti così in ballo in stallo Sì Perché ce ne saranno altri Ahah In cui Io vincerò Vincerò io Io vincerò Farò sniffare Cannella Ahah Cosa è più bella Sì Spero vi sia piaciuto E che torniate sempre a guardarci Perché Facciamo i coglioni Pronti? Non sembra quello che usa per truccarsi Dai Sfigato 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 Sfigato